ragazzi sono costituiti di cercare del futuro quindi c'è il like per questo video ok ragazzi questo è il nostro robot se non sbaglio livello ok ok no 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 oh mettami solo non è male oh ma dove è guardami se sto facendo giro 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 cadi da mai oh chi ti è in muro ma finché i think vai la prima con i capitano però guarda se stessi eric insani si stessi guardami va bene lighissime ah ecco Nome dei devianti, comportamento dei devianti, sciocche motiva, codice di... ...800 migliori... 2 1 2 3 4 4 5 7 7 8 8 9 non mi dico non ci sono non ci sono non ci sono analizziamo sei morto non ci sono non ci sono niente sei ragazzino che dico la telecamera ah no non la telecamera ma che la facci facci i cazzo per tutti io vediamo vediamo attenzione incredibile wow voglio ma che ti sei maniato ma sei sanno non è ma che cosa non è hai hai i comunque spiderman è molto, lo so spero spiderman cioè dell'anno scorso è il gioco più bello al mondo spiderman è bello ma io ci caricano altri video, va giù ma perchè a me non me lo caricavo, vada che il suono è brutto ah ma chi si sta facendo la sforbicione e poi è caro di andare usa la levetta testa per muovere la visua, sai ah ma chi si era una polizia oltre ma non mi chiedevi, è chiù vedete, siamo proprio a posto, se le salite da sto grande f***io ah c'è ah c'è ah quando si brutto hai il polizio e io me lo perdo perché lo so a casa ho capito no ma che te è vecchio a la pistola la pistola va a morire alla lì come c'è un po' sono solo solo l'animal come già fa analizzò ricca cci lui che ci vuoi si sa maniando sangue blu sono androidi androidi ma poi quando come si salva non si salva neanche allora ci ha finito non avvicinare che le devo fare capriolo nome ma cazzo della foto si salva creato Ehi, vai vai, che ovvia? Non so, così stupido Non hai scelta nene Quello che hai fatto è molto grave La domanda è, puoi uccidere un altro invocente Non dipende da te Sono io che è attanto in fondo Se io muoio Le muoio Nooo Oh, palla dello sogno. Oh, palla dello, palla dello, palla dello. Oh, palla dello, palla dello, palla dello. Oh, palla dello, 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 p Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi.